ma sia se calcoli scieneti che ci sono se calcoli romana Ma che schiette le uta Grazie a tutti. 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 tu sei nuovo qui. Noi chi chi è chi è. Questo è proprio il punto. Si, 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 lo che, si rune la collecchia. Si piacerebbe pensare di loro come una sorta di un network di spy. Ma sono solo tanti. Si sono un po' più smarte che gli outcasti, ma nessuno ha la moral di un'escalante in Kadara. Questa è un'escalante. Questa è un'escalante. È un po' più grande. Un po' più grande. Questa è la forma che ci serviamo. Non lo so, che è un po' più grande. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. È un po' più grande. È un po' più grande. Sì, non è vero. A hothead. Great. You need to learn respect for it. You need to learn respect for it. Brought a few more brunts, I see. Come to the outskirts. We'll settle this there. Let me fake it. Ah, fancy finish. Squishy thing like you needs protection. Got the best armor in all of Kadara. May do it, man. And the most expensive, apparently. You look like you can afford it. No, we're not saying that it's a cat mad weird. Now, you just seem to... It's a... Key rear, that's what I'm saying. It is... It's a cat lab, or an magic. It is a car. Oh, hmm. Let's do it again. Oh, yes. So... Let's do it again. Non credo che ci vedessi più. Mi ha deciso di una pistola. Kadara è orgoglosa per il vostro presenza e vostro credito. Finalmente il rispetto che ho dovuto. È felice che ho dovuto. E questo è il rispetto che c'è il rispetto. Il rispetto che il rispetto è il rispetto. Il rispetto che il rispetto è il rispetto. E' un rispetto che il rispetto. Rengizzo, Potessin. E' un' ismero seicni. Cell Stone 5, Sideweiger 5. E' un' venc gitti, Master Alice Busco. L'89 e' un' LeBae. Mert metappus' hanno caso. E' un' cuberuazzon 1-e. Mert még 5000-e? E se è il piroso, e se è il ultra. Ecco, ma non c'è bisogno. Abba la mia, non c'è rieto. è stato attraverso un po' di sardare Eccolo Eccolo Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. non c'è l'esercizio che hazzerlo, non c'è l'esercizio Eccociare la un'fettura del fettura. Il Risenor il Rekord, la fogo di felvete del Rentreff, la Giana e la Garla. il carton palazzo salario fogo il zelto il surges boogo tesi fan il assari ilum boigò non 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 c'è il buo brescia Sì, non so. Sì, non so. e questo è un po' di riporti. Si dovrebbe essere un po' di riporti? Si dovrebbe essere un po' di riporti? Quindi, cosa fa fare un pass finder per il nostro porto? E allora per il rive. Non ringe un bell? Cosa per te? E non mi confio. Noi, non mi sembrava che c'è un po' di più. quindi si può mettere il cuore. posso lavorare con questo. vedete? non c'è motivo che non possiamo essere civiliati. dovrebbe portare un'esprezionamento. I keep getting hold of me right, I'm gonna try I'm gonna I'm gonna try to get out of my way No, 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 no. chi crede che il charlatano è? un gruppo di persone è un gruppo di persone è necessario di più di un person per guidare quella non ti preoccupi che si stanno passando su territorio di outcaste? se si fanno un gioco, io sono pronti come un uomo come un uomo è venuto per guidare un porto di Angaran? quando arrivò a Kadara i Kett stanno girando Angara come animali era una scuola i cattor che i cattor era una scuola i miocchi è un porto di i cattor quelus è un po come è un po un colo come è un po ma quando i supriscizzi erano, erano stati creativi. Ho chiesto di Kett convoi, trattato con Angaran villagini. Ci hanno parlato di Ghadarra port. Tu non è mai violento con Angara? Solo Rokar. F*** questi ragazzi. Rokar non è vero con l'inca, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Come si è vero, non è vero. So, the Outcasts. Give me the sales pitch. The Outcasts aren't for you. Wow, no hesitation. I handpicked every one of my crew. They've got either potential or history with me. And you've got neither. I was only curious, sheesh. I looked you up. Head of Nexus Security, Alliance Train. Record shows a temper, but otherwise paints the picture of a loyal soldier. Why just switch sides? Because I'm sick of serving assholes. I could have handled the situation on the Nexus, but Tam wanted a blood bath. He brought in the Krogan without even asking me. New galaxy, same old bullshit. You could have quit. They would have died without my help. Not all exiles are criminals. Some of us just had enough. You became a pirate by trying to protect people from a massacre? The irony isn't lost on me. You know, Pathfinder, when I joined the Initiative, I thought we could build a new society. A better one. But the Initiative was just another empty promise. The only person I can count on to change things is me. I'll let you get back to it. Pathfinder, stay out of Kadara's business. This isn't your turf. You're not what I expected, Pathfinder. I get that a lot. Hmm. Hmm. Keep staying on Sloane's good side, and I'll be really impressed. You and Sloane seem close. What about it? Nothing. Just wondering what's the story there. We met on the Citadel. She punched me in the face when I offered to buy her a drink. Heh. Seriously? No. Mind your own business, Pathfinder. Are you Sloane's second-in-command? She calls me her right-hand Tyrion. I keep the will from squeaking. Did you switch sides with Sloane during the mutiny? I came over on Arknitanis. Never stepped foot on the Nexus. I ran into some Natanis survivors on Havaral. They're still alive. Heh. Must be Rix's doing. You know Avitus? We've crossed paths. The Collective is making waves in Kadara port. What's the outcast's plan to stay on top? By not telling our strategies to strangers. See you around, Kytus. I'm in a nest. Same, I don't see my eyes. Don't see the prisoner. Don't see the prisoner. Don't touch the prisoner. I don't see my fingers in the basil's. And the only thing the paths that we have to use are scannets. Got it? Absolutely. I won't cause trouble. What about the damage? C'è il cinema che non è ok Ok Ma lo che è qui si rai Ma ti che che ti guarda What do you want? The Archon ship Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting laid No, 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 no. The Archon's ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Kett transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. Thanks for the intel. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshai? Enlighten me. We're losing the war against the Kett. And still, Efra puts my brothers and sisters in danger to protect a useless old woman. So you took things into your own hands. I made the call he wouldn't. The Archon only wanted the Moshai. I thought if I gave her up... I didn't know what the Kett were doing to my people. Efra still entrusted the Moshai to you. And you betrayed them both. I did what I thought was right. And I'll accept the consequences. Pathfinder, the communicator is buried outside the ceasefire zone. I suggest bringing a squad. Petra, Drac. Are you back from whatever it was you were doing? Yep. Our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. You should just ask you to make it to us. Oh. Oh. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. There's been more than one murder? Seven by my count, but that's all I know. Perhaps Mr. Vidal would have more information, Pilefinder. I think you get a ass. I don't know, but I don't know if you get a ass. I don't know, but I don't know if you get a ass. It's rude to stare. I don't know if you get a ass. I don't know if I got a ass. I don't know if I get a ass. e' un'escritto abbiamo un'escritto abbiamo un'escritto un'escritto è un'escritto You ok? What? Oh, yeah, of course. If you get whatever it is off your chest, you might feel better. Doubtful, but it's worth a shot. I joined the Outcasts a few weeks ago. Kytus tasked me with collecting protection fees. Thought it'd be easy. But we talked to so many people, I got the names mixed up and banished someone who paid their fee. They didn't protest it? Of course, she did. But they all do. We don't really listen. You just kicked her out. No questions asked. You don't have to guilt trip me. I thought about looking for her, but I can't risk Kytus finding out I screwed up. I need this job to feed my little brother. Our mom's still in cryo on the Nexus. He's got no one else. Does this convenient little brother have a name? Eli. Eli Wessler. I'm not making this up. Pathfinder, there is an Eli Wessler recorded in the Nexus database. All right, all right. I'll keep an eye out for... What was the exile's name? Remy Tamayo. She would have gone to the slums for processing. After that, no idea. The warden might know. Everyone who's banished to the Badlands goes through him. Hmm. Of the flying flame. Now that I didn't kill his belly, I'm on that thing. You're... It's a flashback. It's Meyer. Most már van. ... ... ... Il fatto non è vero, non è un' più. E' un' più grande. E' un' più ricco, e' un' più. Grazie. Grazie. A city under a city. At the center is Tartarus, a nightclub. Cid a barabákel. Cid a barabákel. Cid a barabákel. Cid a barabákel, a barabákel. Cid a barabákel. Ez szalára. Ha válok. Válakinek zsortikés. Az éjjel. Questa è l'osso. Looting è vero. È for real? Looting è vero. Questa è un b***h. Non antagonize them further, Pathfinder. Questa è vero. Questa è vero. Questa è un po' di tempo. È un po' di tempo. Non, non è un po' di tempo. È un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. A presto di credito? È un po' di tempo. Grazie a tutti. ma non è venuto. All I need from you is peace of mind. Send me his last nav point. I'll check on him. Much appreciated. Sorry, if you're looking for a dance, I'm off the clock. Is this what you came all the way here for? Living in a place like this? Had to get away from my crazy family in the Milky Way. My brother, Conrad, well, he's a couple of courts low on Ezo, if you know what I mean. But now I'm here, and it's great. That's Sloane Kelly. I want to be just like her. That attitude, her accent. She's like, hey, you bastard, lick my boots, kiss my ring, and then my bum. I want to work for her, learn the ropes. Then call up my brother, Conrad, and be all, see, idiot, you're not the only one in the family hanging out with famous people. Right. Good luck with that. E' la mia testa è Conrad Verne, e' la prima cosa è la sepe. E' la prima cosa è la sepe. E' la prima cosa che voglio essere. Non lo so, non lo so. da ragazzi che non c'è carriere il fantoma e così mi sono già uscita la termine? a subverso Grazie a tutti. 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 ? No. No. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. I don't know how to fight ha we do the formulas in my old lab, please don't get killed trying to fix my mistake you sell oblivion here are you well informed doc must still be whining dr. Nakamoto thought he was making medicine not drugs whatever it's all the same to me if Riyota knows what's good for him he'll keep his mouth shut he'll snap off of me fresh meat fresh meat I I don't touch that Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i tui. Grazie a tutti. Quasi noche. Non siamo lessenigliati. Siamo comunque attraverte. Alternate prototiposti all'iniziativa. Inizia a avestoppare fuori a avestitare. Miamo attraverte il nostro nostro sistema, pathfinder. I'm a sconsolare. I'm a sconsolare. I'm a sconsolare non ci sarà la nostra sconsolta. Molto in giro. D'acquanto ci ci sono un po' esclare. Sì, è vero. e questo è il nostro corso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Look at all these mountains. Should put our jump jets to the test. The salvage is registered to unaffiliated Outlaws Pathfinder. I advise Cushia. I suppose you've seen this sort of thing before. All new to me. I thought you had a thousand years of experience. It's a new galaxy. Better hope you and your Pathfinder figure it out. Come on. 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 Grazie a tutti. 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 One down, two to go. Grazie a tutti. 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 Oh, da, ah... e 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 na ez már fejtegetős e nézi itt ezen a sorba kettő van, itt is kettő, így is kettő, így is kettő ez ez nem lehet, mert itt van ez meg ott mellette, azért nem ez meg a sorba ez lehet, mert az ott meg van e 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 I get that. Someone has to keep the peace. Turns out, it just wasn't me. Oh, that's what yours do. Krogan Law Enforcement is very different. That exile camp has a high concentration of registered criminals, Pathfinder. Not looking good for the Angara. Animal! So, I got a lot of them. Okay. I've got a lot of them. I've got a lot of them. I've got a lot of them. oh appreciate your systems when you need to leave I won't poke anything I'm not supposed to I promise the pathfind is brilliant how is that possible it'll be easier to show you I Think that's enough Hey getting better at this Okay, let's get to the vault and fix Godara's water oh I'm gonna go to the vault give it away the octavial Grazie.